Ho fatto un'analisi giusta secondo me, la condizione sapevamo, l'ho detto ieri in conferenza, che non erano le migliori ed è giusto così, se no dovevamo essere preoccupati, perché come sappiamo l'obiettivo è il campionato, quindi ci aspettavamo di soffrire in questo modo. Poi comunque era una partita sentita, un derby, come hai detto bene tu, l'ha deciso all'episodio, ci sono state occasioni da un lato e dall'altro, è stata giocata a campo aperto, forse non è stata una grossa partita dall'aspetto qualitativo, però penso che a livello di cattiveria agonistica, a livello di agonismo è stato un bel derby. Semplicemente caratteristiche diverse, a un certo punto noi abbiamo preferito iniziare con Croce Caputo per avere più palleggio, più raccordo, poi una volta magari quando i ritmi si erano abbassati abbiamo cercato, una volta che si aprisse il campo, di andare più alla profondità, più in verticale e diciamo che ci siamo riusciti, abbiamo avuto tutte le occasioni, potevamo chiudere la partita, l'errore che abbiamo fatto è che l'abbiamo tenuta viva fino alla fine, però ci sta, i carichi di lavoro sono alti e ci aspettavamo questo tipo di gara, ma bene sicuramente, dal punto di vista dell'agonismo credo che abbia fatto un'ottima partita e ripeto, è stata decisa da un episodio, da un grandissimo gol di Caputo, però meritavano tutte e due le squadre, diciamo così, anche se ripeto non è stata una grande partita sotto l'aspetto della qualità, però agonismo, cattiveria calcistica è stata un'ottima partita. Grazie